Il 2017 segna un record storico negativo per le nascite. Nelle Marche a vedere la luce è appena 10.699 bambini, 813 in meno rispetto all'anno precedente, mentre negli ultimi 5 anni la riduzione è di quasi 2.000, ovvero meno 15,5%. Se il fenomeno del crollo della natalità è nazionale, risulta più netto in regione secondo quanto emerge dai dati Istat rielaborati dall'IRES CGL. Diminuiscono i figli nati da genitori italiani del 13,6% rispetto al 2013, ma anche quelli con almeno un genitore straniero che rappresentano l'8,9% dei bambini nati nelle Marche. Il numero medio di figli per donna scende a 1,25, un dato inferiore alla media nazionale e a quello delle regioni del centro Italia. Per contro, crescono i decessi che nel 2017 sono stati quasi il doppio delle nascite, segno di una popolazione, quella marchigiana, che invecchia sempre di più. Poi c'è anche da considerare quelli che hanno lasciato le Marche per andare all'estero, quasi 4.700 nel 2017, sono quasi 22.000 negli ultimi 5 anni e si tratta soprattutto di giovani, anche coppie, in cerca di lavoro e nuove prospettive. In sintesi, considerando il 2017, è come se fosse sparito un comune come Pergola. Occorre dare delle risposte alle persone, soprattutto a quelle più giovani, in termini innanzitutto di lavoro e occupazione che garantiscono una prospettiva solida alle persone e l'altra risposta però anche in termini di servizi e di adeguate politiche, in termini di sostegno alla maternità e alla paternità. Pensiamo in particolar modo alla necessità di garantire un'adeguata rete di servizi all'infanzia, asili nido innanzitutto, anche invertendo la tendenza delle politiche adottate negli ultimi anni che sono state fatte da bonus, bonus mamma, bonus bebè, eccetera, che hanno in qualche modo disperso anche tante risorse senza dare adeguate risposte in termini strutturali.